Ciao raga, per tornare a discazze a vedere un nuovo video Oggi siamo su Minecraft B Ma il Minecraft non è andato male Oggi, come si viste ve lo scherzavo Oggi dovevo film da... Guarda come cazzo vedere qua C'è scritto FILE DO TEMBATOS Ora, abbiamo questa roba, abbiamo questa roba Cerco di non cittare Allora, qui sono FILE DO TEMBATOS E spero che non ci sia qualcuno Allora, il mio brato è fantasma E riparai nel tuo E entra Vabbè, accezzate quello di qua Allora, come stavo dicendo raga Io, vi faccio sta notizia Alla tale, avevo il PC che mi porto contenuti di qualità Mi iniziano a portare forte Raga, come stai detto molto curiosi Perché io sono un gamer E dalla tale porterò forte Però, da PC Cioè, io di solito giocavo da play Però, se non da play Quindi porterò il PC Voi direte Ma con me giocare da PC E da play Qual è meglio? Ragazzi, io gioco da PC Sì, sì, gioco da PC Però Con l'interno Cioè Così Così Il gamer Da Gapad Vedete quanto cazzo carica Stava un po' bello Caricarà mai più Se non c'è una connessione Non scherzo Ora Io vado con il PC Non faremo più video Voi direte perché Che io chiudo il YouTube Bene Voi direte perché Perché non mi scherzo? Perché se no? Perché non mi scherzo? Allora, io continuo a portare i video Allora, ve l'ho capito Ma quando Inizio a fare i live Cos'è? Dica Vorrei fare che Cioè Quando fanno la live Non mi scherzo Perché Cioè Ho giocato da PC Ho giocato da PC Sì, sì Ho giocato da PC Allora 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 Come cazzo? Che è vero? Che è vero? Qua c'è un libro Level Tutorial Che cazzo della Di questo tipo Allora Che cazzo della Che è vero? Che cazzo? Aspetta Allora Ecco il libro L'ho capito di guerra Non lo leggo più L'ho capito di guerra L'ho capito di guerra Allora Non lo leggo Allora 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 Oh Oh vada Coglione Oh cazzo Oh cazzo Nooo 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 Regà Io dico Cazzo Allora Start Allora ok e' giusto e' luci ma si sono giusto ma mi chiede le domande ma mi chiede le domande ah raga aspetatelo ah raga i dati ah vediamo se che ho assolutato quelle con la diate e' fastidio oh guarda ah si si e' veloce però ah ti s e io gli dico che cazzo devo fare ti prego vado a andare avanti vado a fare il cazzo capito cosa vuoi che te lo giuccio non lo so ma vabbè start vieni fuori d'orica questa l'ha scuso oh no scusate scusate ce l'avevo già visto ma ahhh e' giusto e' giusto e' giusto e' giusto che s'è giusto che s'è non riesce però è l'ho che s'è che s'è chi 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 s'è Grazie a tutti. 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 Faccio... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.